Buongiorno a tutti quanti ragazzi, dopo tanto tempo bentornati nel mio canale. La location è cambiata, come vedete starò qui per qualche mese. Meglio, sicuramente meglio dell'inclinazione verso il basso, quindi sicuramente questo paesaggio è molto più apprezzabile di quello precedente. Prima di iniziare come sempre iscrivetevi al canale, mettete like se il video vi piace e seguite tutto quanto il video o metà se non vi interessa. Ad ogni modo iniziamo. Nell'ultimo video, simpaticamente datato l'anno scorso, vi ho introdotto quelli che sono i 4 integratori più importanti che potreste assumere nell'arco della vostra vita, tralasciando l'ultimo integratore. Di questi integratori, li ripetiamo un attimo, sono la vitamina D, l'alfa lipoico, l'acetilcarnitina e la creatina. Bene o male tutti quanti integratori a supporto del mitocondrio. Ho tralasciato i minerali e le vitamine perché minerali e vitamine sono comunque già supplementi che sono indispensabili di per sé, che comunque trovate in gran misura nei cibi se mangiate bene e che invece dovete supplementare quando avete delle carenze nutrizionali o comunque quando avete degli stati particolari dove necessitate di più minerali. Ad esempio lo zinco per il sistema immunitario, il rame, il ferro per le mopoiesi, eccetera. Dunque ci tenevo a fare questo video sul quinto e ultimo integratore della lista. Sebbene, dico la verità, al momento non sapevo che integratore avrei scelto e mi è venuto in mente leggendo una review che è questa qui. Stiamo parlando del NAD, nicotidamine adenin di nucleotide. Ma prima di parlare del NAD dobbiamo un attimino parlare di metabolismo energetico, a dire la verità, e come funziona la nostra produzione energetica, ovvero nella cellula o nel mitocondrio, come si comportano queste strutture per produrre l'energia di cui abbiamo bisogno per muoverci, per far battere il cuore, per parlare, per pensare. Insomma, per tutto quanto quello che facciamo ci serve l'energia prodotta dalla fosforilazione ossidativa o più che altro l'energia estratta da questo processo perché l'energia è stata già precedentemente prodotta dal ciclo di Krebs in maggior misura e dalla glicolisi. Prima di parlare di NAD parliamo un attimino e cerchiamo di capire come viene prodotta l'energia. Allora noi per produrre l'energia dobbiamo mangiare e respirare, grazie al cazzo direte. Esattamente, proprio così. Quindi mangiare zuccheri, acidi grassi o aminoacidi, che sia una di queste tre componenti, tutte quante vanno in un'unica direzione che è quella del ciclo di Krebs. Nel ciclo di Krebs noi produciamo degli intermedi energetici che sono il NADH e il FADH e a volte produciamo anche direttamente ATP e GTP, quindi monete di scambio energetiche vere e proprie. Questo NADH e FADH per diventare ATP deve passare su una catena che si chiama catena di trasporto mitocondriale. Vedete tutto quanto qua sotto. Vedete il ciclo di Krebs dove arrivano gli acidi grassi, dove possono arrivare gli aminoacidi e trasformarsi in intermedi del ciclo e dove può arrivare lo zucchero e vedete queste cose di fianco NADH, FADH eccetera e ATP direttamente. NADH e FADH in particolar modo saranno il focus di questo video, in particolare il NADH, anzi la sua forma ossidata, il NADH. Dunque una volta che noi prendiamo glucosio, aminoacidi e acidi grassi diventano NADH, FADH, ATP, prendiamo il NADH, come vedete il NADH deve passare su questa catena qui. La catena mitocondriale. Questi qua sono complessi proteici che sono nel mitocondrio. Il ciclo di Krebs avviene nel mitocondrio, il NADH che viene prodotto si sposta, va nella componente vicino alla membrana mitocondriale e deve essere in qualche modo ossidato. In poche parole gli tolgono i protoni. Togliere i protoni a questo NADH va a formare il NADH, che è l'integratore di cui parleremo, e i protoni vengono tolti perché vanno a generare un gradiente che dopo permette la produzione energetica. Fino a qui tutto bene. Fantastico, no? È abbastanza semplice a dire la verità. All'inizio non proprio quando lo si studia, però dopo diventa un processo davvero semplice da comprendere. Dunque, quello che ho appena descritto, ciclo di Krebs e fosforilazione ossidativa, è la base della nostra esistenza. Noi esistiamo, facciamo, pensiamo, proprio perché esiste questo processo qui ed è fantastico che questo processo esiste nelle nostre cellule grazie ad altri organelli, che sono i mitocondri di cui magari in futuro farò un video, ma di cui ne potete trovare davvero tantissimi di video. Ma focalizziamoci in questo caso sul NAD, nicotidamine adenine di nucleotide. Come avete visto, il NAD è la forma ossidata, cioè senza protoni, quegli H, che vedete nel NADH, che sarebbe questa molecola prodotta durante il metabolismo dei nutrienti che noi mangiamo. Bene, questo NAD ha delle funzioni strabilianti ed è anche un marker importante quando si parla di performance fisica, a dire il vero. Come vi ho detto, il NAD deriva dalla funzione del nostro mitocondrio. Se il vostro mitocondrio non funziona, e se il vostro mitocondrio non funziona vuol dire che siete malati, in che senso? Se i mitocondri del cuore non funzionano, avrete con più probabilità patologie cardiache. Meno funziona il vostro mitocondrio muscolare, con molta probabilità non avrete una performance straordinaria e non sarete dei grandi atleti. Se avete dei mitocondri epatici del fegato che non funzionano, dovete stare attenti ad assumere troppi farmaci o troppo alcol, eccetera, e a sovraccaricare troppo il vostro fegato. Se invece il mitocondrio del cervello non funziona, avrete brain foghe e sarete più a rischio di patologie quali Alzheimer, Parkinson, eccetera. Come se i mitocondri delle gonadi non funzionano, molto probabilmente avrete una ipomotilità spermatica, o comunque in questo caso avrete poco testosterone, anche perché il testosterone viene prodotto dal colesterolo grazie al mitocondrio. Insomma, il mitocondrio è importantissimo e ogni integratore che voi prendete va a lavorare sul mitocondrio. Non per nulla tutti quanti integratori che ho detto, i quattro integratori di cui ho parlato, si focalizzano sulla catena di trasporto mitocondriale o comunque sulla funzione mitocondriale. Ne manca una a dire la verità, non ho parlato del coenzima Q10, ma ci farò un video a parte. Per ora ho voluto descrivere gli integratori che sono abbordabili per tutti e che possono essere facilmente utilizzati e che possono aiutare molto il vostro metabolismo energetico e automaticamente la vostra salute. Perché metabolismo energetico vuol dire salute, perché tutto quanto quello che facciamo dipende dall'energia che produciamo. Più energia produciamo, più abbiamo le forze proprio all'interno della cellula per ammigliorare determinati stati e esaudire determinate funzioni. Ma torniamo al nostro NAD. Parlando di NAD, nicotinamina adenine dinucleotide, quello che dobbiamo sapere è che per quanto riguarda i supplementi ci sono due forme. Il NAD che è ossidato, quindi senza l'H+, e il NADH che sarebbe la forma ridotta. E voi giustamente direte, ma Ivan a questo punto non ha senso prendere il NADH, ovvero la forma ridotta, perché è quella che è prodotta grazie al ciclo di Krebs. Ovviamente quando il ciclo di Krebs non funziona, se il mitocondrio non funziona, non funzionano tutti quanti i meccanismi al suo interno, a questo punto nemmeno il NADH si dovrebbe produrre bene. Invece no, non è così che funziona. Il NADH viene prodotto benissimo dal mitocondrio, o comunque viene prodotto abbastanza bene. Quello che non viene prodotto bene è il NAD, quindi quando c'è un problema mitocondriale, il NADH è in eccesso, non si riesce ad avere tanto NAD, quindi non si riesce ad ossidare lo stesso e non si riesce a produrre l'ATP grazie a questo NADH. E questo quando è che viene visto? Viene visto perché proprio poco prima dello sfinimento, in uno studio che hanno fatto, hanno fatto vedere che quelli ad aumentare, prima del cedimento, sono i livelli di NADH. Quindi quando io sono tanto sfinito, io praticamente ho un'alterazione nella funzione del mitocondrio nel convertire il NADH in NADH. Dunque dare NADH probabilmente può essere un aiuto, specialmente perché a noi ci serve NADH per produrre NADH per dopo avere una buona funzione mitocondriale. Ma non solo, anche perché il NADH è quello che va ad indicare al mitocondrio che deve aumentare di volume, che deve iniziare a duplicarsi, che deve aumentare il pool di antiossidanti, perché quando c'è tanto NADH vuol dire che in qualche modo c'è abbastanza stress ossidativo. E dunque il NADH ha questa funzione di attivarci tutta quanta una serie di sistemi che servono ad aiutare la produzione energetica da parte del mitocondrio, che servono ad aumentare, migliorare in questo caso, gli antiossidanti e che riescono anche a modulare quello che è il ritmo circadiano, che farò nel prossimo video, di cui un video verrà fatto a breve o forse è stato già fatto, non lo so, dipende dall'estro che ho, di pubblicare prima uno e poi l'altro. Ok bene Ivan, abbiamo capito che cosa è il NADH, abbiamo capito che fa bene per la salute, però vogliamo sapere come effettivamente prenderlo e in che forme si trova. Allora, il nicotinamide di nucleotide non si trova nella forma di NADH, non sarebbe biodisponibile, però si trova con i suoi precursori. In questo caso si ha la vitamina B3 o acido nicotidico, che sarebbe in questo caso la forma di vitamina B3 che si trova di più in commercio e solitamente viene utilizzata per abbassare i livelli di colesterolo totale e aumentare i livelli di HDL. Dopodiché si trova il nicotinamide, che in questo caso è la forma amidata, che è un pochino più disponibile dell'acido nicotidico, perché per diventare NADH deve sottoporsi a minori passaggi e qui vedete un attimino la schermata. Dopodiché abbiamo anche il NMN, ovvero nicotinamide mononucleotide, che è soggetto ad ancora meno passaggi, e il mio preferito che sarebbe il NADH riboside, nicotinamide riboside, o NAM riboside in questo caso. Allora, io voglio parlare del NAM riboside perché effettivamente, se vogliamo l'integratore di NADH più biodisponibile, è proprio questo qua. Infatti, rispetto ai 2-3 passaggi a cui normalmente sono sottoposti gli altri suoi precursori, il nicotinamide riboside deve essere semplicemente fosforilato, e lo è all'interno della cellula, e deve essere semplicemente coniugato con una base azotata, che sarebbe in questo caso l'adenosina. Quindi una volta che è fosforilato e coniugato, il nicotinamide riboside diventa NADH ed è molto attivo all'interno della cellula per poter fare ed avere gli effetti positivi di questa fantastica sostanza. A dire la verità, il nicotinamide riboside non è solamente un integratore, ma i precursori del NADH diventano fuori dalla cellula nicotinamide riboside per dopo poter entrare, perché le sostanze fosforilate non possono entrare nella cellula. C'è questa incapacità delle molecole col fosfato di entrare per una questione di carica. Dunque, il nicotinamide riboside comunque è un qualcosa di essenziale e proprio il NADH diventa normalmente nicotinamide riboside per poter entrare nella cellula. Cioè, bisogna defosforilarlo per farlo entrare. Dunque, questo è molto importante. Non state prendendo un qualcosa di nuovo, di neosintetizzato semplicemente per aumentare la biodisponibilità, ma state prendendo qualcosa che le vostre stesse cellule creano per fare in modo di aumentare l'intake cellulare di questa cosa qui. Dunque, quanto è che ne va preso di nicotinamide riboside? Più o meno dai 500 mg a un grammo. Nell'integratore trovate 300 mg, ma dare un grammo specialmente all'inizio, se avete bisogno di integratori che vi migliorano il metabolismo mitocondriale, in particolari condizioni, che sia performance, che sia patologia, che sia aging, come integratore anti-aging è fantastico, state a un grammo. Un grammo di nicotinamide riboside vi aumenta il quantitativo di NADH di 3 volte. È davvero un quantitativo fantastico e per la vostra salute mitocondriale fa tantissimo. Come ho detto precedentemente, quando parliamo di mitocondrio parliamo di tutto. Parliamo di tutto quanto quello che può far bene alla cellula. Infatti, il mitocondrio non solo serve per la produzione energetica, ma come sapete ci sono migliaia di mitocondri all'interno di ogni cellula. Ce ne sono tantissimi nell'ovaio, quindi è normale che la salute mitocondriale in questo caso gioverà tantissimo nell'ovaio o magari nelle gonadi, perché ovviamente ne serve tanto per produrre gli ormoni di cui c'è bisogno. Ci sono molti mitocondri nel cuore, ci sono molti mitocondri nel fegato, insomma ci sono molti mitocondri in diversi organi centrali per la vostra salute. Per quanto riguarda gli effetti del mitocondrio, ripeto, non è esclusivamente la produzione energetica, ma il mitocondrio aiuta nell'equilibrio proteostatico della cellula, quindi a distruggere le proteine che non servono più. Serve quando è presente nel sistema immunitario per contrastare i virus e aiuta la cellula sempre a evitare che venga invasa da patogeni. Quindi il mitocondrio è una funzione centrale per l'equilibrio dell'organismo e una volta che noi lo aiutiamo ci stiamo aiutando noi stessi. Dunque il nicotinamia ribosida in questo caso può essere utile in tutte quante quelle condizioni dove c'è un elevato stress ossidativo perché il NAD permette l'attivazione di una proteina che si chiama SIRT, che sono delle proteine connesse alla longevità. Quando fate fasting aumentate SIRT, quando fate esercizio fisico attivate SIRT, quando prendete il sole attivate SIRT e il fatto del collegamento tra NAD e sole è perché effettivamente il NAD serve e viene prodotto per sincronizzare l'orologio biologico. Ho fatto un video molto tempo fa ormai l'anno scorso su sole e crescita muscolare e sull'importanza in questo caso del sole dove non mi ricordo se parlo di NAD però dovete sapere che in questo caso il NAD e la sua sintesi è centrale nella funzione dell'orologio biologico e nella sincronizzazione di quello che è il ritmo luce-buio. In questo caso qui effettivamente il NAD serve tantissimo perché questa capacità di aumentare SIRT e modulare tutta quanta quella macchina circadiana che è praticamente modulata dalle proteine BIMAL e CLOCK e vi permette di dire quando avete fame, sulla base delle vostre abitudini ma anche sulla base dell'ora del giorno, quando è il caso di muoversi, di essere attivi o quando è il caso di dormire, quando è il caso di studiare eccetera eccetera. Quindi tutto quanto è modulato anche da NAD. Bene, direi che vi ho oberato tantissimo. Per oggi è tutto per quanto riguarda il NAD. Se avete domande sempre sotto il video e spero di essere stato abbastanza esaustivo. Ciao ragazzi!